L'ARPA ha contribuito a questo monitoraggio, è importante che la provincia abbia identificato nell'ARPA il soggetto istituzionale che deve assicurare ai cittadini salentini una buona qualità ambientale. L'ARPA quando ha bisogno del supporto dalle istituzioni tecniche o scientifiche le coinvolge come in questo caso. Il prodotto finale è questo importante rapporto sulle deposizioni di microinquinanti nell'area salentina che si associa alla nostra attività di monitoraggio sia al camino delle varie sorgenti emissive sia per quanto riguarda la valutazione della qualità dell'aria sia per quanto riguarda la valutazione del suolo. Il tutto in una organica valutazione che consente di affermare che questa area comunque tranne alcune situazioni locali tra l'altro già identificate e risolte presenta una qualità per i microinquinanti dell'ambiente di alto livello tanto da poter rappresentare quasi un marchio di qualità ambientale. Questo è uno sforzo che deve essere comunque mantenuto perché il monitoraggio ambientale non può avere dei picchi e il mantenimento di questa attività ovviamente è frutto degli investimenti che le istituzioni, la provincia ma non solo, anche la regione devono fare per garantire infrastrutture come quelle dell'ARPA e tali da consentire risultati corrispondenti ai bisogni delle popolazioni. Purtroppo la nostra agenzia è ancora fortemente sottodimensionata e quindi sconta questo forte ritardo nella sua costituzione rispetto ad altre agenzie del centro nord che avendo il triplo dei nostri dipendenti forniscono prestazioni ambientali di qualità certamente superiore. Di qui il bisogno è ancora maggiore di ricorrere al supporto delle istituzioni tecnico-scientifiche grazie alle quali possiamo dire di poter raggiungere livelli di prestazione confrontabili con quelli delle altre regioni.